Mia mamma sono erede del 1973, del 1973, che c'è una donna che è della leva del 1900, del 2000, e sarebbe rovinata la mia persona, proprio della leva, della leva del 1887, del 1887, proprio la donna è del 1887, proprio la donna si vede che è verace, che sta bene a quest'ora, proprio la donna è del 1800, stai ben attento, del 1887, del 1887. Proprio la Gidione è la cosa più bella del mondo, proprio la Gidione è la cosa più fregolosa del mondo, proprio la Gidione è la cosa più bella del mondo, proprio la Gidione è la cosa più una santificazione, proprio la Gidione è la cosa più bravigliosa, proprio la Gidione è la cosa più bella del mondo, proprio la giulione è una cosa che è la più bella del mondo, proprio la giulione è la cosa più bella del mondo, proprio salvatemi la vita, proprio cercatemi, proprio ciò che dite, ciò che dite mettetelo in atto, ciò che dici che sei, che sei matto da farlo bene, imitalo in tutti i modi.